tunnel o ti saluta ma chi sei tu la sua e la sua nuova fidanzata carlo badagliac conosco mirella mire chi sei la nuova fidanzata di carlo carl baddi ma che è carlo badagliac da torino anche tu sei don matteo sei il suo fidanzato anche tu ho capito mi saluta tutti così ti saluta carlo badagliac da torino è che tutti qua che sta roba vi stai messi d'accordo ecco la pelle io esco a sta nel gruppo telegram a no no ho capito ho capito capito a sta nel gruppo il vostro gruppo telegram e carl baddi carlo badagliac e carl baddi carl baddi penso sono fidanzata e il fidanzato con car come si chiamava lì sarabì sere b sarabì 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 a un altro lato organizzato ok vabbè che proprio non era dopo non era più fidanzato comunque ancora no va bene mirella mire ma tu sei di torino mirella mire comunque andiamo avanti come sapete chi è carl baddi è un minutivo e il nome carlo badagliac comunque allora ecco